Sono due le liste presentate durante l'Assemblea Provinciale di Forza Italia in corso a Bari per la scelta del nuovo coordinatore provinciale, dei componenti del coordinamento e delegati al Congresso Nazionale. Una delle due liste fa capo all'Avvocato Giuseppe Carrieri, attuale commissario cittadino e vicino al Vice-Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. L'altra invece è guidata da Giuseppe Gallo ed è considerata vicino al commissario regionale del partito Mauro Dattis. Alle 19.00 termineranno le operazioni di voto e in serata dovrebbe essere proclamato il vincitore, salvo che durante l'Assemblea Giuseppe Carrieri e Giuseppe Gallo non trovino un accordo per una mozione unitaria. La nostra mozione sostanzialmente traccia le linee della Forza Italia e del futuro. Nella memoria del Presidente Berlusconi noi vogliamo assolutamente la rivoluzione liberale che lui ha sempre sperato di fare. Meno tasse, lo Stato minimo, la tutela dei cittadini, una giustizia più efficace, più veloce, soprattutto la possibilità per Giuseppe Carrieri di intraprendere senza i lacci e i lacciuoli che troppo spesso lo Stato mette intorno al cappio dei commercianti e degli impenditori. Noi crediamo che questo Paese abbia bisogno di una scossa potente e liberale, questo Paese abbia bisogno di Forza Italia, dobbiamo affrancarci da questo 6-7% che non ci appartiene. Abbiamo denominato la nostra mozione Uniti nel Cambiamento, proprio perché vogliamo proporre un nuovo modo anche di fare politica, più inclusivo, più d'insieme, in stretta collaborazione, tutti gli amici che sono al mio supporto. Innanzitutto ritengo che sia giusto che il coordinatore provinciale sia non una persona di Bari, ma uno della provincia, che sia esponente della provincia, che rappresenti tutti i circoli cittadini. Questa è la nostra priorità, dare voce al territorio.